per lì si è rotta io l'ho fatta le foto si le stavo facendo il video portagli la porta prima gli fa la foto e poi gli sposta la porta adesso lo fa cadere tutta voglio vedere la foto un nido? non mi sono ancora preparato sposta la testa un po' più qua tieni madonna ho queste foto tutto storto mettiti giù vediamo se riesco a fare la foto si porca non prende più non c'è altro di tutto lì dobbiamo dire che arriva prima però vado dietro è la faccia mettiti laterale è così guarda guarda l'altro 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 E questo vlog inizia così e finisce un po' strano, volevo ovviamente farvi vedere qualche clip, cioè in teoria avete già visto il clip, comunque volevo praticamente appunto farvi vedere che abbiamo festeggiato tra virgolette il compleanno di mio fratello, perché ogni anno per chi mi segue veramente sa che io metto sempre sia il compleanno di mio fratello sia il mio, perché mio fratello prima quando io ho aperto il canale lui faceva i video insieme a me, dopo a favore di diventare grande alla fine ho deciso solo io di andare avanti a fare video e ovviamente lui non le sta più facendo con me. A parte questo volevo aggiornarvi, dirvi un po' due tre cose velocemente. Ripeto è un vlog sia per un minuto di compleanno e in più qualche aggiornamento o qualcosa che, cioè praticamente io ho deciso due cose e volevo comunicarvi queste cose qua. A parte l'aereo, quando registro io tutte le volte o c'è casino o c'è chi parla o c'è chi rompe, di tutto di più succede. Allora, prima di tutto volevo dirvi che dato che ormai siamo a luglio, luglio agosto sono i mesi in cui youtube cala, vuol dire che le persone non staranno su youtube per due mesi, ce ne saranno pochissime e dato che fa tanto caldo, c'è chi va al mare, c'è chi va in piscina. Io registro qua in camera mia e inizio a fare tanto caldo. Per cui è un po' difficile per me fare i video seduta, se vi mostro qualcosa, se vi mostro che ne so lo shopping o vi devo parlare di qualcosa o, non lo so, video praticamente che faccio ad esempio così, fa un caldo bestia come adesso, no? Non riesco a sopportarlo. Allora per me è un po' difficile fare i video col caldo che fa. Allora ho deciso di fare più vlog, anche se un po' di video li ho, diciamo, fatti, per cui quelli che ho fatto li metterò su e un po' di vlog li farò in questi mesi. Però la mia decisione è stata questa, cioè per 18 giorni in agosto, le prime due settimane di agosto non pubblicherò video sul mio canale. Praticamente ho deciso dal primo di agosto fino al 17 di agosto, praticamente compreso per agosto che è il 15. Ho deciso così perché voglio prendermi una pausa, dato che sono sempre su youtube, sia a fare video, sia a registrarli, che a montarli. Non ho mai avuto tempo di dire, ok, prendo una pausa e faccio altre cose oltre al youtube. Non l'ho mai fatto. Questa volta, dato che io ovviamente non vado al mare in agosto, ma vado a dicembre e gennaio. Per cui io vado al mare a dicembre e gennaio, non in agosto. Però dato che sono due mesi un po' che calano. Allora... E che cavolo? Allora ho deciso di non pubblicare video per questi 18 giorni e di fare una pausa, di stare lontano da youtube. Anche perché così almeno i video che non avete visto li potete vedere sul mio canale, il tempo che io non ci sarò in questi 18 giorni. E' una decisione che avevo fatto solo dicembre e gennaio, quando sono andata al mare per due settimane e non ho pubblicato niente. Ma l'anno scorso, in agosto, avevo già pubblicato e non ho fatto pausa. Allora quest'anno volevo cambiare e decidere di fare questa pausa qua. Questa è stata la mia decisione, per cui i video che non pubblicherò per i 18 giorni, voi quelli che avete perso li potete vedere sul mio canale. E poi, questo è l'ultimo vlog di sabato, perché l'avevo già detto anche nell'altro vlog, che non pubblicherò più il sabato, ma pubblicherò solo il martedì e il giovedì, iniziando da martedì, questo che deve arrivare. Per cui, voi vedete i miei video solo due volte a settimana. I vlog li metterò in teoria il giovedì, per cui il giovedì dovete vedere i vlog. Cioè, dovete vedere i vlog. Tranne martedì questo, che ho deciso di pubblicare un vlog, dato che ho fatto... cioè, sono andata in un posto che avete visto praticamente le foto su Instagram, per cui non so chi ha indovinato dove sono stata, ma comunque martedì ci sarà un vlog. dato che non volevo mettere il vlog di dove sono andata e il compleno di mio fratello, che non c'entrava niente, ho diviso e ho fatto questo e l'ultimo vlog del sabato e martedì il vlog che uscirà. Per cui, non ci saranno più video al sabato. Cioè, fino a settembre, fino all'inizio di settembre, non ci saranno i video al sabato e queste due settimane, questi 18 giorni, in agosto, non ci saranno i video pubblicati sul mio canale. Per cui, questi sono gli aggiornamenti e queste sono le decisioni che ho fatto. Anche perché, ripeto, all'inizio ero... cioè, sì, stavo su YouTube, facevo i video, eccetera, però avevo anche altre cose da fare, cioè, facevo altre cose. Invece, da quando penso solo a YouTube, penso solo a fare i video, stare, diciamo, con voi, eccetera, non ho mai detto basta, riposati, fai qualcosa invece di stare sempre a fare i video. Questo è. Ovviamente, chi lo sa, fare i video e registrarli ci vuole di impegno. Per cui, ci vuole il tempo, ci vuole tante ore, specialmente a montarli e il tempo va veloce e non hai dopo... diciamo, non fai più le cose che devi fare privatamente, capito? È quello il punto. E vabbè, credo che chi fa i video lo sa, capisce. E niente, queste sono state le decisioni che ho voluto prendere. Niente, vi ricordo che da martedì i miei video saranno solo martedì e giovedì alle 5. Ho visto che alle 5 pochissime persone guardano i video a quell'ora. Avevo intenzione di metterlo alle 7. Solo che, non lo so, secondo me è perché in questi due mesi iniziano a calare allora giustamente alle 5 non li guarda nessuno. Però per il momento lascerò l'orario alle 5. Poi da settembre se vedo qualche miglioramento e che qualcuno guarderà alle 5 video ok, se no sinceramente cambierò orario. Per il momento sarò così. Niente, volevo dirvi solo questo. Questo vlog è un po' chiacchierino perché ovviamente sono a casa non so cosa fare cioè non so cosa fare non è vero perché devo montare tutti i video devo montare questo video qui che così non vedete ovviamente sabato che è l'ultimo e dal da luglio mi sembra perché ormai siamo a luglio sì voi vedete il martedì che è l'ultimo che è giugno e poi dal 2 di luglio ci saranno i video che ho già registrato per cui niente io vi anticipo già cioè vi anticipo già buone vacanze perché credo che questo sarà l'ultimo video no non credo perché registrarò i vlog per cui non è vero però vabbè buon luglio perché sì a luglio ci vedremo e niente mi sto impappinando questo video ovviamente non voglio che dura tanto per cui adesso chiudo qua il vlog scusate se era un video un po' così ma ho voluto farvi vedere sia un pezzettino del compleanno di mio fratello e in più aggiornarvi di queste cose solo per quello lì è un vlog così diciamo però dato che è l'ultimo sabato ho deciso facciamo così niente io chiudo questo vlog noi ci vediamo il prossimo video e scrivetemi sotto qua nei commenti dove andate in vacanza se andate in vacanza io ripeto in agosto non ci vado se mai vado a fare un giro non so sul lungo lago di Como dove ovviamente vi farò vedere i vlog e basta solo quello per cui quest'anno forse non so neanche se andrò in vacanza dicembre gennaio dato che è successa questa cosa del virus comunque fatemi sapere sotto nei commenti voi se andate in vacanza e dove andate così almeno parliamo un po' insieme detto questo io vi saluto ci vediamo al prossimo video e spero che questo vlog un po' chiacchierino vi sia piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e seguitemi su instagram mi raccomando se volete sapere qualcosa in anticipo che metto sempre qualcosa in anticipo al prossimo video ciao ciao